bentornati a tutti allora oggi parleremo sempre a livello di sicurezza però questa volta non parliamo più di virus antivirus quello che sia ci spostiamo soltanto per quanto riguarda la sicurezza nei browser e diciamo che finalmente oggi si chiuderà la cerchia anche per quanto riguarda i browser da andare a utilizzare in passato già ho fatto un video di quale è il miglior browser di quali sono i migliori browser da andare ad utilizzare ai tempi insomma avevo detto è continuo sempre su questa riga per niente di andare a utilizzare benissimamente firefox e legge che sono i più sicuri insomma sono i più veloci avevo sconsigliato ovviamente continua a sconsigliare l'utilizzo di google chrome e altri browser e avevo solo accennato effettivamente nei miei video non ne ho mai parlato mentre c'è un motivo e anche se uno dei browser più sicuri e oggi parleremo proprio di torre perché in passato io ritorno ne ho quasi parlato se non accennato soprattutto legandolo praticamente al mio video quando abbiamo parlato di navigazione praticamente in incognito anonima soprattutto del dark web praticamente a tutt'oggi è l'unico browser il torro mente stiamo parlando di torre che riesce a navigare per quanto riguarda il dark web e il deep web quindi in questo caso torre è considerata appunto uno dei più sicuri perché già vi ho fatto vedere quanto è pericoloso entrare nel mondo del dark web quindi dell'illegalità totale è l'unico che permette di aprire questi quindi in queste estensioni point onion praticamente è proprio l'unico e solo torre però perché dato che il torre è un browser uno dei più sicuri io non lo consiglio non sono un consiglio di scaricarlo né di utilizzarlo diciamo quando si naviga normalmente prende nel web quello che utilizzate voi tutti i giorni quello che utilizzo io che utilizziamo tutti ogni giorno intanto che abbiamo bene cos'è torre or normalissimo browser come agli altri ovviamente già dalla sua icona dicono le icone non sono fatte così a casaccio cioè chi è che fa questo software in questo caso che fa questi software cerca di accoppiare al nome del browser comunque un'icona che possa far intendere qualche cosa in questo caso nel caso di torre magari molti dicono ma com'è che è stata parlata un'icona a cipolla esiste un motivo non è perché magari l'idiatore faceva aveva qualche parente che faceva il fruttivendolo non è così praticamente si dà si è scelta proprio questa immagine a cipolla proprio per far capire la sicurezza che ha presente questo browser torre come se fosse una cipolla perché perché se ci fate caso ovviamente tutti conoscono le cipolle la cipolla la cipolla prende per arrivare al cuore quando ovviamente si taglia si incomincia a spellare lente si tolgono i vari spicchi quindi il primo strato il secondo il terzo il quarto fino a arrivare proprio al noccio all'interno proprio della cipolla quindi al nucleo della cipolla quindi in questo caso perché paragonata alla cipolla tor proprio per gli strati di sicurezza che offre torre quindi in questo caso non è stata una scelta a casaccio proprio l'icona della cipolla questo per farvi capire tor quanto sia sicuro già di per sé quindi praticamente tor ha molti strati di sicurezza e prima che qualcuno possa qualche malavitoso o chi insomma qualsiasi persona possa capire chi sta navigando è veramente difficile arrivarci perché deve superare tutti questi step ed è in quasi impossibile ecco perché tor è praticamente è considerato uno dei browser più sicuri che possano esistere nel mondo dell'informatica quindi già da qui spero di avervi fatto capire con l'esempio proprio della cipolla che a sua volta hanno scelto loro come con cina di quanto sia sicuro torre di cosa significa proprio questa icona a cipolla utilizzo ovviamente solo connessione ovviamente non poteva fare altro essendo sicuro solo HTTPS quindi le connessioni più sicure ovviamente elimina tutte le connessioni java perché ovviamente le connessioni java possono portare a qualche intruso insomma qualche malavitoso e possa capire chi siamo dove siamo cosa stiamo facendo quindi a sua volta elimina tutte per esempio le attivizioni di java quindi non è incluso essendo che ovviamente è talmente sicuro quindi lavora benissimo eccetera eccetera perché per esempio io non l'ho consigliato e consigliato molto di più per esempio il firefox o leggi perché già di suo essendo che diciamo una cosa la doveva pagare il tor browser e sperando comunque che risolva sempre in futuro mi sembra molto complicato però perché appunto lui tiene molto alla privacy è vero sì che ha molta privacy il torre è vero sì che per avere però questa privacy ovviamente abbiamo visto quante per esempio bucce e strati di cipolla dobbiamo andare a togliere prima di arrivare proprio al nucleo centrale questo fa sì che torre browser sia un torre molto ma molto lento quindi se ci avete fatto caso voi se l'avete mai installato o chi naviga nel dark web sconsiglio sempre ovviamente di farlo o chi lo utilizza proprio per avere soltanto più private se lo utilizza nel surface web quindi quello nostro per intenderci quando andiamo a cercare i normali siti www punto che l'ha utilizzata e chi lo utilizza oppure chi lo utilizzerà vedrà proprio la lentezza che attorno e già si sta parlando comunque di un browser che si utilizza in maniera normale andate a pensare voi quando la coppiamo ad una vpn vpn non sto qua a dire che cos'è perché già l'abbiamo parlato e straparlato comunque in maniera semplice se già noi andiamo lenti con una connessione nostra con il nostro isp che possa essere moda telecom eccetera eccetera senza passare tramite vpn quindi senza andare cambiando paese che già la connessione con vpn un po rallenta quindi andiamoci a figurare chi utilizza magari anche torre con una vpn cioè verrà veramente veramente pesante il lavoro da fare su internet quindi le nostre ricerche saranno veramente lente rispetto ad altri browser quindi diciamo che si consiglia non si consiglia allora gli altri browser sono anche sicuri se magari torre può essere un po un paletto più sicuro però non so se ne varrà la pena insomma dato che già comunque altri browser come edge come firefox sono abbastanza sicuri andare a rallentare molto la nostra connessione quando si utilizza il torre quindi magari si può utilizzare un'alternativa su alcuni siti e magari utilizzare torre quando si utilizzano magari dati personali eccetera eccetera avendo la pazienza di aprire in maniera molto più ritardata un sito e magari poi per la navigazione normale possiamo utilizzare benessamente sia edge che firefox quindi questo è soltanto il motivo perché non ho mai consigliato torre non perché non sia buono ma soltanto una questione di lentezza ricordo che torre browser è a una vastità di installazione quindi può essere installato su android su apple su windows su tutti i dispositivi quindi effettivamente è fatto bene è creato bene completamente open source quindi completamente gratuito quindi che dirvi se volete comunque provare perché provare non costa nulla se volete provare o aggiungerlo magari è già il browser esistenti che spero avete scelto quelli che ho scelto io quindi edge e firefox se lo volete aggiungere siete liberissimi andare a scaricare e provare questo torre browser se no potete rimanere con il vostro browser sempre quello preferito che dirvi buona sempre navigazione a tutti ciao alla prossima